Fere, dimmi, secondo te cosa succede se attivo tutti i disastri insieme? Non lo so e non lo voglio sapere Stef, non lo fare dai, non lo fare Uno, due, tre, quattro Inizia a correre Fere, non faccio il tempo ad attivarli tutti Vado dentro casa, vado dentro casa e ti lascio fuori Chiudi, chiudi Fere Oh mamma mia Ci siamo chiusi dentro Stef Io sto continuando ad attivarne Fere, sta scattando tutto, non vedo più nulla E io sono morta Io sono rimasto vivo Io sono rimasto vivo Ma com'è possibile? Aspetta Fere Dimmi Sta crollando il pavimento, abbiamo buggato la mappa Oh no Ragazzi come va? Io sono Fere Niki E io sono Stef E torniamo qui su Natural Disaster In questo episodio ovviamente proveremo a combinare più disastri possibili E vediamo un po' se troviamo vari modi per sopravvivere ovviamente Esattamente Dubito che potremmo sopravvivere a troppi disastri combinati Però noi ci proveremo perché dobbiamo scoprire se fa In ogni caso una cosa che non avevamo utilizzato nel primo video Fere È la possibilità di mettere un disastro automatico Quindi casuale Quindi casuale Di conseguenza e questo non te l'avevo detto prima di iniziare questo video Ho pensato perché non facciamo una sfidettina tramite a chi sopravvive ai disastri automatici E vediamo chi è il più bravo sopravvivitoria di sempre Ma quello lo sono io Non c'è bisogno di fare una sfida Sei sicura? Sì Io non ne sono così sicuro Allora partiamo Ci sto comunque Ci sto Provando un po' di disastri combinati per fare tipo delle combinazioni devastanti Ok Dopodiché ci facciamo una bella sfida e vediamo chi è il migliore Allora, allora, allora Che cosa possiamo combinare? Non lo so Posso farne uno strambo per vedere che cosa succede? Ok, vai Cioè se io metto, ok, il fuoco che fa bruciare tutto combinato all'inondazione d'acqua Che succede? Questo ce l'hanno chiesto in tanti quindi sarà molto molto curioso da provare Allora, allora mi metto qua Mettiamo prima l'acqua L'inondazione sta arrivando Ok Me la guardo dal mio bellissimo balconcino E' arrivato anche il fuoco da quel che vedo, Ferre Sì, 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 sì E' finito? Ah no, l'acqua è già finita, Ferre, però è rimasto il fuoco che ti sta inseguendo Ok, siamo saldi E infatti stavo scappando in tutti i modi possibili Comunque interessante, nell'acqua non funzionava più il fuoco Però nell'unica isoletta che era rialzata ti ha iniziato a colpire e a bruciare Esatto, esatto, è andato proprio così Quindi era diventata una combinazione dove il posto più basso era tutto pieno d'acqua che ti ammazza E nei posti più alti c'era il fuoco che bruciava Sembrerebbe comunque che i vari disastri non si possono combinare al 100% Cioè vanno comunque ognuno per conto su Però si uniscono insieme Più o meno Per fare un qualcosa di cattivo, secondo me Non era male Ferrettino, questa volta faccio decidere a te che cosa vorresti vedere combinato Dai, sentiamo un po' Non lo so, fammi vedere Allora, io voglio fare Ok, dimmi tutto Charged Creepers e Zombie Invasion Ferrettino, ma sicura? Sì Ma sei sicura? Sì, sicurissima Ok, allora Aspetta, aspetta Io prima mi chiudo dentro casa Vai bene Tu lo abbi Allora, Zombie Invasion messo Charged Creepers messo Scusi Buongiorno Mamma mia Ferrettino Dove sono? Verrà qua sotto Guardali C'è la festa, guardali Ferrettino, ma stanno suonando la porta mi sa Oh, ma non esplodono Non esplodono No, perché non siamo abbastanza vicini Esatto Ok Però, vediamo se riescono a trovare un modo di salire Ho avuto una paura incredibile quando è finita Perché pensavo fossimo esplosi Anche io pensavo fossimo esplosi Per un attimo ho fatto Oh no, siamo morti E invece Tu erano troppo poco i round, Stef Non c'è un modo di farli durare di più No, Ferrettino Paccato Mi dispiace, ma non possiamo non rompere le scatole Ti avrei voluto spingere Però l'avevo già fatta la scorsa volta Quindi non mi sembrava una roba simpatica Eh, anche io ho capito Ho pensato la stessa identica cosa, Stef Il tuo zombie invasion Più Charged Creepers Mi ha fatto pensare a una combinazione Che per me è completamente letale Ok Vai Cosa succede se mettiamo gli zombie Ok Combinati al ghast Perché Teoricamente lo zombie ti impedisce di stare in giro nella mappa tranquillo Il ghast teoricamente ti spara ovunque stai E di conseguenza Credo che sia una combinazione totalmente letale Vogliamo provare, Ferrett? Sì, sì Allora io mi sono messa qui in alto Vediamo un po' Io vado nel mio solito giallo Vediamo cosa succede Ma temo che praticamente Gli zombie saranno lì sotto pronti ad ammazzarci Eh, il ghast è infatti qua Il ghast ci spara Ah, sì, sì, sì Spara, spara, Stef Sei già sposa a fare? No Oh mamma mia Non del tutto Sì, adesso Oh mamma mia Ok Ti dico che sono durato Questo è più letale Questo sì Sono durato un mezzo secondo dopo Però la voglio riprovare Allora, fammi pensare Mi sa che andiamo In house Che c'è una casa gigante Proviamo a stare lì dentro Vediamo se i ghast ci fanno esplodere da lì Ok E poi arrivano gli zombie in incursione Ok? Vediamo così se fa Sarebbero molto intelligenti se lo fanno Vero? Sarebbe tipo Signore degli Anelli Una roba assurda Cioè, immaginate li combinati Sarebbe strabello Della serie Vai, vai, andate Abbiamo aperto noi Andate, andate E loro ok, ok Allora, pronta? Vado No, aspetta Zombie invasion Ho già messo tutto per il ghast Oh, devo andare dentro Corri Corri, veloce Ma non c'è una porta per chiudere qua? Eh, sì E quello è il problema Allora sali le scale, veloce No, Steph È tutto aperto qua Ma non si può Veloce, Fede Ci sono le scale Queste non le possono salire Vengo qua Queste non le possono salire Ok Ok Adesso? Adesso io guarda Aspettiamo Da qui Ok, per ora non vedo zombie Ok Senti anche i rumori Sento qualcosa, certo Ok Per ora Sai che abbiamo esagerato? Siamo davvero irraggiungibili? Vediamo se scendiamo anche solo a qui Dove sono? Dove si sono cacciati? Ho molta paura Io lo so che ci arriveranno adesso in corso E ci fanno venire Guarda li vieni Sono fuori Ho visto i tentacolini Sshh Ci stanno cercando comunque Ok Ci cercano, Steph Aspetta, aspetta Buongiorno Non mi hai visto, vero? Che fanno? Per fortuna Non ci vedono, non ci vedono Ah, guarda Gli zombie in qualche modo strano non ci sono O erano già finiti Perché credo che gli zombie durassero pochissimo Può essere, può essere Mentre il ghast dura tanto, tanto, tanto È il momento di farci la nostra sfida Poi nel caso proviamo qualche altra combinazione dopo Allora, facciamo al meglio di 3 o al meglio di 5? Dai, fai al meglio di 3 Vediamo come va Ok Magari facciamo un altro round Quindi, noi mettiamo tutto automatico Viene scelta una mappa e una cosa Quindi una catastrofe totalmente casuale E noi dovremo cercare di sopravvivere Dai, vediamo un po' Ok, come mappa abbiamo la spiaggia Stiamo per scoprire che cos'è la nostra bellissima catastrofe Però vorrei andare al sicuro il più in fretta possibile Ok, vediamo Ok, fra poco ce lo scrive Ti prego qualcosa Ok, che cos'è? Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Fare Fare aiuto Ok Uuuuh Fulmini, fare vai sotto l'ombrellone Vado qui sotto Eh, ma mi prende sempre sotto l'ombrellone Quindi non è che cambia molto Ok, un fulmine assurato a me Ok Allora, io teoricamente dovrei essere abbastanza al riparo Ferre è stata colpita A me prendono sempre Dai, dai, dai Devo fare il tifo Copri fulmini, attenzione Lo stanno circondando le fiamme Attenzione Sono talmente messo bene Che potrei Ciao Steph, muori Ciao Steph Non morire Non morire Non morire Ti prego Ho vinto Gli ombrelloni questa volta non funzionano Non mi hanno tradito Mi dispiace Steph Ha bruciato il tetto Con un fulmine Non me ne sono accorto Ed è arrivato un altro fulmine Oh, neanch'io me ne sono accorto Che mi ha preso in pieno Perché mi stavo guardando attorno Quindi neanche dire che l'ho fatto apposta Ma non mi sono accorta Che la tua casa stava bruciando Un punto per fare Andiamo di nuovo È davvero divertente così in automatico Soprattutto perché non scegli neanche la mappa Quindi sei totalmente lì impreparato Esatto, esatto, esatto Ok, mappa house Mi vado nell'ultimo piano Io vado nella casetta Ok, vediamo chi sarà difeso meglio Blockstorm Ok, a tavolo Credo che qua siamo totalmente tranquilli fare Perché? Perché teoricamente Blockstorm cadono dei blocchi dall'alto No, infatti ero in alto Ma non è lì dentro qualcosa? La casa sull'albero è aperta Ah Uno pari È andata così Salgo l'albero e vediamo un po' Però non salgo del tutto Vediamo Dai Dai Ti fa anche attento Get inside Vado dentro Ti prego dimmi che mi considera Ecco qua Perché io ero nel soffitto Allora praticamente il problema è che quando tu leggi la catastrofe È troppo tardi È troppo tardi perché ti parte subito Quindi ho avuto fortuna nel posto che hai scelto in anticipo Poi non ce la fai Allora ti do un consiglio dato che ormai sono in vantaggio E sicuramente vincerò Ok Tu devi stare sempre al riparo Ok Perché se poi è qualcosa che va diciamo a contrastare il tuo riparo Nel senso che magari è tipo l'acqua che piano piano sale Ma io voglio vedere Fai in tempo comunque a salire Ok ma non mi serviva questo tuo consiglio Grazie però non mi serve Vai Inizia Andiamo Di nuovo Di nuovo Ok Vabbè Ti ho visto andare lì Ovvio Allora Allora Vediamo che cosa capita Dai Dai Ok Inondazione Allora di nuovo pareggio direi Credo Dovevo salire Fere è tutto ok Credo lo spero Allora vediamo l'inondazione che arriva Però è troppo bassa E di conseguenza Sì dovrebbe rimanere bassa Non si alza troppo Questa sta abbastanza tranquilla Ok siamo sopravvissuti di nuovo Si sta facendo tosta Due pareggi di fila Non si riesce a determinare un vincitore finale Vedremo un pochettino se capiterà qualcosa di tosto Questo angolino così Perché se fa get inside sbatto qua Vediamo Dai Forza Forza Ok Stavolta ce l'ho fatta Terzo pareggio di fila Fermi stai iniziando a dare fastidio Vieni qua che ti do due schiaffi Che la finiamo a pugni Vieni qua Vieni qua che la finiamo così Alla vecchia maniera Oh no Adesso sì che siamo fregati Ti prego dimmi Che ci va fortuna e capita qualcosa di normale Non so neanche dove andare in questo postaggio E neanche io perché più Oh cavolo Ok Siamo nei tunnel e non possiamo scappare Che si fa Steph Eh non lo so Fere Fatti i tuoi Come fatti i tuoi Tu dove sei Dimmi che stai bruciando Dimmi che stai bruciando Fere Oppure sei morta Ma hai rotto la mappa Come combina Come hai fatto No no Sono le scale per salire L'ho scoperto all'improvviso Io ero dentro un tunnel E sono affogata dentro il tunnel Perché flood era l'inondazione Sì l'ho confuso con quello della lava Non mi ricordo se era di lava o di acqua Ma era un'inondazione Sì Entro gli edifici Ok Perché esplodono Ok Dopodiché Thunderstorm che mette appunto dei fulmini in giro E Blockstorm che ci impedisce di stare fermi Cosa succede? Niente che secondo me sopravviviamo due secondi Uno Due E tre Ok Buona fortuna Fere Vai 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 Io corro Allora Sì anche la mia tattica è correre sto il più a bordo possibile E se sto sotto un albero? Vedo la bomba Vedo la bomba Ti prego questa volta non mi far morire Ok Ok Credo di essere vivo nel mentre sta carendo tutto Stanno facendo fulmini Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Io alla fine mi sono messa sotto un albero Fere perché sto bruciando adesso? Non lo so Ho preso un fulmine ora Ma che succede? Va bene Sto partite sui fulmini Stef Aiuto Stai tirando i fulmini Vai via vai via stef Attiri i fulmini Via Abbiamo rotto la mappa Rotto la mappa Bravi complimenti In effetti il gioco lo specifica Attivate una sola cosa alla volta Però Noi volevamo provarci I consolini ci hanno chiesto di attivarle tutte Di provarne diverse E noi abbiamo rotto la mappa Eh vabbè Eh l'abbiamo rotta Bene che si esiste tutte Sentiteci un like E se la prima volta che avete visto il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi Per non perdermi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 Ciao